Massimo Tonucci, Presidente, siamo all'interno dell'Arena e siamo tanti, veramente tanti. Chi abbiamo alle nostre spalle in questa serata di festa? Abbiamo circa mille persone, sono le persone più importanti della banca perché sono i soci. E questo gala del socio è stato pensato dopo alcuni anni che non lo facevamo per le note vicende epidemiologiche. Quest'anno abbiamo pensato di farlo, di farlo per ripartire e quindi i soci sono la nostra risorsa, sono poi i nostri correntisti, sono coloro che vivono nella nostra città, sono quelli che lavorano con la banca di Pesaro e che fanno creare quell'indotto alla banca di Pesaro che sono gli interessi, il margine di intermediazione. Il margine di intermediazione è che quest'anno è stato veramente importante, quindi una banca che è cresciuta in doppia cifra, una banca che vuole essere sempre più protagonista del proprio territorio perché noi siamo la banca della città di Pesaro, il nostro territorio è questo, non miriamo ad espanderci in altri territori, noi svilupperemo la nostra attività nella città di Pesaro, stando vicino alle famiglie, alle imprese e supportando il più possibile le necessità. Abbiamo approvato il nostro bilancio dell'esercizio 2022, un bilancio veramente importante per tanti fattori e poi come è stato conseguito, visto che stavamo venendo in un momento veramente particolare, in cui purtroppo prima la pandemia poi i fattori socio-economici e politici importanti ne hanno condizionato. Quali sono i punti di forza della banca di Pesaro, i punti di forza che rendono la banca di Pesaro veramente attrattiva sul nostro territorio? La banca da tre anni fa parte del gruppo bancario cooperativo Icrea, grazie all'appartenenza a un gruppo bancario siamo all'avanguardia nell'offerta di prodotti e servizi come tutti gli altri, tanto più nei prodotti digitali e soprattutto siamo sempre alla ricerca di nuove combinazioni di servizi o prodotti da promuovere sul territorio a favore dei giovani, ma soprattutto delle famiglie e delle imprese, un tessuto veramente molto vivace, ma vivace nel senso positivo per quanto riguarda il servizio in cui operiamo. Grazie.